Doveva essere la partita della svolta, del cambio di passo e così è stato, prima vittoria casalinga per l'Arezzo calcio femminile e salvezza messa in cassaforte. Si giocava l'Orentini di Pescaiola la diciannovesima giornata del campionato nazionale di Serie B di fronte il Pescara, fanalino di coda del torneo che arriva ad Arezzo dopo aver vinto due delle ultime tre gare giocate e l'ambizione di riaprire la corsa a salvezza. Razzina Grilli conferma il modulo con cui ha caratterizzato la sua Arezzo, il 4-2-3-1 con Verdi e Baracchi mettono l'onimo al centrocampo con Mattiacci a rifinire le giocate di Inocchi. La gara inizia subito in sedita per l'Arezzo che al sedicesimo va sotto, il Pescara riesce a sbloccare l'incontro grazie a un cross dalla sinistra di Santi Rocco, la difesa di casa incerta favorisce Confessore che di destro trafigge la porta di Antonelli. L'Arezzo incassa il colpo ma lo smette di giocare e creare occasioni, ben tre se ne contano dal ventesimo al trentesimo minuto del primo tempo con Mattiacci e Di Fiore, ma in tutte e tre le conclusioni non si trova la via del gol. Il primo tempo si conclude con una grandissima giocata di Inocchi che si mette a dribblare tutta la difesa avversaria, poi però si lascia ipnotizzare proprio nel finale dal portiere ospite. Nel secondo tempo cambia l'inerzia della gara, dopo tre minuti l'Arezzo di fatti trova la rete del pareggio. Alla prima occasione della ripresa Inocchi prende un traversone di 50 metri lanciato dalle retrovie e riesce a siglare la rete dell'1 a 1 per Isottanocchi, ottavo centro stagionale. Poco dopo arriva anche il raddoppio della scuola di casa grazie alla grave ingenuità di Confessore che tocca la palla in area di rigore con un braccio. Dal dischetto si porta Laura Teci, capitano dell'Arezzo che non sbaglia la conclusione, per lei seconda rete stagionale entrambe venute sul calcio di rigore. L'Arezzo riesce quindi a conquistare la prima vittoria stagionale in casa ai danni di un buon pescara in classifica la squadra Maranto aggancia 24 punti in San Marino e il Ferrari. Adesso domenica prossima si andrà a giocare contro il Marcon per la ventesima giornata del campionato nazionale di Serie B. L'Arezzo è partita un po' a rilento, poi nella ripresa è riuscita a rimontare il risultato e a scendere la prima vittoria a Casalinga. Sì è vero, siamo partiti un po' lenti, un po' per il caldo, un po' per come erano messe loro, nel senso che giocavano molto chiuse con questi lanci lunghi, però devo dire che forse sul mezzo pasticcio nostro hanno trovato un gol, però credo che poi al secondo tempo le ragazze volevano fortemente questa vittoria, l'hanno dimostrato con una buona prestazione sotto il punto di vista anche della foga agonistica. Cioè si voleva e ce l'abbiamo fatta, sono contenta per questa gente, per i tifosi, per le ragazze soprattutto perché veramente stanno facendo un lavoro, un percorso straordinario e se lo meritano. Adesso da questa vittoria può esserci anche una continuità di risultati, guardando anche la classifica e il calendario. Ma sì, guarda, io ho detto alle ragazze che la mentalità vincente non la compriamo al supermercato, la mentalità vincente arriva vincendo. Credo che è un gruppo che veramente si sta impegnando tantissimo negli allenamenti e quindi credo che questo sarà l'inizio di un percorso che vogliamo chiudere bene perché vogliamo far parlare dell'Arezzo non solo a livello locale ma a livello nazionale. Quindi penso proprio che le ragazze con questa vittoria acquisiscono quell'autostima che forse è un po' mancata nelle partite precedenti ma che penso che debba entrare di prepotenza nel loro DNA perché, ripeto, ci teniamo a far sì che si parli dell'Arezzo a livello nazionale. Siamo qui con Nocchi, per te il gol del pareggio, il gol che ha permesso all'Arezzo poi di riuscire a rimontare il risultato. Sì, è stato bello perché ce lo meritavamo. È stata una partita combattuta, nel primo tempo siamo entrati un po' male, ci siamo fatti un po' abbindolare dal loro gioco, comunque ci abbiamo provato ma non trovavamo bene le misure con i passaggi. Nel secondo tempo invece siamo entrati più decise, eravamo una vera e propria squadra corale e ce l'abbiamo fatta. Insomma, grande soddisfazione aver rimontato la partita. Per te già l'ottavo cento stagionale ti sei dato un obiettivo per questo termine di campionato? No, l'importante è andare avanti con la squadra e fare appunto il meglio possibile per l'Arezzo e anche per me stessa, perciò continuare così e andare avanti.